Quattro medaglie e due qualificazioni agli assoluti per il Denino Team che continua a fare il pieno di soddisfazioni. Una campagna soddisfacente è quella affrontata dal Denino Team, associazione sportiva di kickboxing, che tra il 23 e il 26 marzo è stata impegnata ai campionati nazionali a Iesolo. Gli atleti, al seguito del maestro Davide Denino, hanno ben figurato, portando nuovamente in alto i colori ovidiani. Dalle fatiche venete il team è tornato con quattro medaglie, tre argenti e un bronzo, due qualificazioni per i campionati italiani assoluti. I sei atleti del Denino Team si sono divisi l'impegno equamente, con tre atleti impegnati nel criterium e altrettanti nella Coppa del Presidente. Proprio del criterium sono stati staccati due pass per accedere agli assoluti. In quella che è la categoria alla quale partecipano le cinture più alte, blu, marroni e nere, ha ben figurato Matteo Marrese, fermato solamente in finale dal campione in carica. Per lui comunque medaglia d'argento al collo, possibilità di andarsi a giocare l'accesso in nazionale il prossimo maggio durante gli assoluti. Bene anche Salvatore Trione, vincitore di tre incontri, che li sono valsi la medaglia di bronzo oltre alla qualificazione agli assoluti. Sfortunata invece Paolina Colonico, battuta durante il primo match. Altre due medaglie sono arrivate dalla Coppa del Presidente, per merito di Fabio Zarlenga, Andrea Presutti, entrambi premiati con l'argento. Per Presutti, inoltre, si è trattato di un vero e proprio battesimo del fuoco, poiché ha affrontato l'esordio nel contatto pieno. Si ferma a primo incontro, invece, Iurico L'Angelo.